bella a tutti ragazzi oggi siamo su questo nuovo video e non sono solo sono i compagni di mac debla oltoni e beriz89 bella a tutti di padella gustavo cannone aiastaggino intanto mia mamma non va su internet quindi non mi può sentire quindi tranquillo darò tutto il meglio di me stesso denuncio il figlio per bestemma no dai e questo e questo che cazzo fa guarda i tubi che cazzo fa sto handicaffato ma sono immortali e ma porca di una puttana ma non muore sto cristo porca troia porca troia non capisco come è possibile mancarlo 28 volte da mezzo metro bloccato a terra in che guerra uno è bloccato a terra col cemento cazzo ma stuprato ma 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 cribbio questo qua cosa fa figlio di puttana porca troia appollaiato come i piccioni di milano guardate sto figlio di una mignotta ma anche ucciso ma anche ucciso cazzo ma anche ucciso cazzo 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 che senso ma cazzo il quink io li ho sparato e poi mi ha preso il no scope non ha parole cazzo 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 Da dietro, tanto per cambiare. PIO CANE! Il miglior player, attenzione lui, il piccione.